Allora io vi devo proporre una cosa Non so se lo sapete Ma è uscita una serie Rai Questa serie si chiama Sopravvissuti Secondo voi a che serie si ispira? In questo viaggio erano in dodici Capitano Ah però con la barca al posto dell'aereo Ah ok Te l'onore Vorrei fare un brindisi con tutti mi raccomando Così diversi Diffidenti Diffidenti Ragazzi Non sei Mamma mia Posso farti notare una cosa prima di tutto questo Puoi aprire per favore la Scrivi su Google Immagini Scrivi Sopravvissuti Ah c'è la locandina certo Ma è tre Guarda la locandina Sì 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 Scrivi Sopravvissuti Rai Mamma mia È proprio questa qua Con l'onda gigante che arriva sui loro Se tu noti non stanno Sono nell'acqua Cioè loro sono nell'acqua Non ho capito perché Hanno deciso di metterli nell'acqua Non c'era nessun tipo di motivo Per metterli Cioè veramente Tu puoi metterli ovunque Puoi metterli Sono d'accordo Non c'era motivo Per cui da asciutti Loro dovessero essere In un mare in tempesta No perché mi fa ridere L'onda gigante Con l'onda Si sta battendo E loro calmi Però loro calmi Con la luce sparata qui Gialla nel viso Mentre gli arriva uno L'onda totalmente fredda Blu E loro sono mega caldi Gialli In faccia E sono nel mare Sono nel mare Ed è così che ci raccontano Sopravvissuti Ma andiamo a vedere bene Questo trailer Perché il trailer Spagna Finché una tempesta Cambio tutto E tutti Una grande coproduzione Io so delle cose Quanto donerà ancora Non voglio so dire Con certezza Sembrano trelli Di Marcia Capatona Senti che dice Una grande coproduzione Internazionale Senti adesso È solenne È solenne Senti Una grande coproduzione Internazionale Quanto donerà ancora Non voglio so dire Con certezza Effetti speciali Per un colossal Sorprendente Effetti speciali Per un colossal Sorprendente Ma quel modo Di vendere Il prodotto Ma poi c'è uno C'ha palesemente La febbra E' quello che fa E' la febbra Effetti speciali Per un colossal Grande coproduzione Internazionale Quanto donerà ancora Dottore Chiami un dottore È quello Non voglio so dire Con certezza Con certezza Effetti speciali Per un colossal Sorprendente Attenta 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 Non lo so Sì però non si apisce Uguale Ma cosa è successo Siamo sopravvissuti Ah è bello Quando è uscita nel nome Guarda guarda che bello Questo Questo No guarda che screen Guarda la sfumatura Sul Bello Guarda Tanto possiamo L'hanno presi tutti i ricci Cioè sono stati veramente Grandiosi Perché devi fare un'intera serie In green screen E li prendi tutti i ricci No dai Tra l'altro la luce La luce qua è Sparatissima La luce è incredibile Abbiamo provviste ancora Per un po' Allora fermete Porco Posso bestemmiare qui? Sì puoi fare Porco il dio Chi è che dice nel mondo Abbiamo ancora provviste Oh mi dovete portare Oh voi in chat Mi dovete portare una persona Un cugino Un amico Tuzia Qua pelata Mi dovete dire Chi dice la parola Provviste Nella storia del mondo Vabbè Sei messa ad un barca Magari in barca Parlo da così Dai un po' di cibo Abbiamo ancora Sono rimasti Dugreger Abbiamo provviste ancora Per un po' Abbiamo provviste ancora Ancora per un po' Con queste sfiatate Un po' Quadro elettrico È giusto Guardiamo Gli menano Gli squali Gli squali Gli è visto Si vede il fondo Si vede il fondo Dell'acqua Con i pesciolini Ma come? Ma che significa? Si si vede il fondo Dell'acqua Guarda Guarda Si vede il fondo Questo è il fondo Dell'acqua Ma tu lo hai Il fondo dell'acqua Non è il fondo Il fondo dell'acqua È vero Questo è il fondo dell'acqua Ma cos'è? Dove? Di squali Gli squali su Così Stanno in un pezzo D'acqua Così di squali Una storia Che vi terrà Col fiato sospeso Col coltello C'è sofferenza Eh sembra che stia Eh sed Salutiamo Lino Gonciole Dovresti fare Un'intervista Se vuoi viene Una cosa divertente Vai Vai Una storia Che vi terrà Col fiato sospeso Non te lo chiedi mai Se abbiamo fatto La cosa giusta Aiuto No sì Questa è la più bella Questa è la più bella La dezoomata Con aiuto Così nel buio Il green screen Tutta questa Questa è la perfetta Questa è la perfetta Sì E tre ore Spam Col fiato sospeso Non te lo chiedi mai Se abbiamo fatto La cosa giusta Aiuto Allora Ma poi lei Mi sa È sta un po' sprodotta E questo è compositing Il presente compositing Tu volo di Allora Io vi devo dire una cosa La barca Io sono stato Sul set Sono È questa Questa è la cosa Che ti volevo dire Ho una persona Che ha lavorato Nella scenografia Di questa serie Degruppa Esatto Allora Sono stato sul set Hanno ricostruito L'intera barca In una In uno studio A Roma Sui De Paulis Grazie E ragazzi L'hanno inondata Veramente Cioè Hanno usato Dei cannoni Di acqua In questo enorme Capannone Per girare Gli esterni Della barca In uno studio Perché non potevano Girarlo ovviamente In mare Hanno speso Dei soldi Per fare questa cosa Perché è una produzione Colossal Ma scusa Ma non ci sono Le piscine Apposta Cinematografica Perché non hanno usato Eh però Metterci una barca Intera È difficilissimo L'hanno ricostruita Perché poi il regista È uno che Tra l'altro La prima puntata Non c'è Un'inquotatura Ferma Lui sta sempre Con sta Staticam In mano Aia È una merda Ti viene in mare Di mare E non stanno ancora In mare C'è un altro teaser Però che devi vedere In cui c'è Lino Guanciale In green screen Dopo che viene Non spoilerare Grazie a MC Caroni Benvenuto E Karazuki Dove la trovo Allora No no Vai su Scrivi sopravvissuti Trailer Però io forse L'anticipazione No è dopo Aspetta Scrivete Poi andiamo Calma Ti devo dire qual è Allora Eccolo Dovrebbe essere questo Sì è questo Siete pronti Ma ma siamo già Un pezzo avanti No ma siete pronti Non so Aspetta Siete pronti Ciao Eravamo sicuri Che i soccorsi sarebbero arrivati subito Scusa Lui ha detto questo E' uno scioglilingua Eravamo sicuri Che i soccorsi sarebbero arrivati subito Troppe esse E' uno scioglilingua Siete pronti Siete pronti Un viaggio Questa è stata Tremenda Questa è stata Tremenda Puntini puntini Tremenda Dai Scegliamo questo oggettivo Scegliamo questo oggettivo Un incubo Che è una parola sola Non hanno nemmeno messo Un incubo Un viaggio Un incubo Che sono delle parole Che non ho scelto Ma che cazzo Tutto è sbagliato Anche il giustificato Delle parole È una città vicino a Novata Un incubo È l'università di incubo Qui non si è proprio capito niente Allora credo fosse uomo in mare Però non vorrei dire qualcosa Non lo so Dinevi voi Però secondo me Un momento investito della barca Sì sì Uomo in mare Se l'è preso in mare Attenzione Madonna mia Che male Green screen Green screen Favamo un green screen Ho fatto così Ho fatto proprio così Vai un po' indietro Vai un po' indietro Tutto è sbagliato Vai un po' indietro Ti sta pippando Vai un po' indietro Perché è un Se l'è preso in mare Fermati proprio Aspetta ancora Qua Allora adesso prendo l'iPhone E facciamo un green screen Con l'iPhone Qua Così Senza green screen Viene meglio Sì Viene un po' meglio O uguale Ma non viene peggio No peggio è impossibile Non può venire peggio Però io preferisco Questa che c'è la barba Che è tutta unita È tutta un È tagliata Perché è un tupè Messo proprio Così È il green screen Che appiattisce Quello che è successo Non deve sapere nessuno Ma perché Perché lei Non decida Non decida Dal niente Ma poi perché questo eco E questo riverbero Senza senso Perché è misterioso Quello che è successo Non deve sapere nessuno Metallica La metallica Allora È Bellissimo Va visto Va visto Io ho visto i primi 20 minuti E Mattia Benvenuto Ero veramente felice Queste cose rendono comunque felice Io mi appassiono Io mi appassiono a queste robe qua Io mi appassiono perché poi Lino Guanciale sta veramente Prendendo in mano Tutte le serie Perché lui ha fatto Noi Che è This is us Serie che personalmente Non seguivo E non ho seguito In America Però è una serie Meravigliosa Con un pilota Scritto di Cristo Serie pazzesca Ma che in America Aveva senso Qua in Italia un po' meno Hanno fatto una stagione E l'hanno affossata Sono molto curioso di vedere È colpa del sistema Però secondo me È colpa sicuramente I poteri I poteri porti E poi in Italia Perché non capiscono Le cose come in America Esatto E adesso hanno fatto Sopravvissuti Ma sopravvissuti a cosa? Eh beh Forse Forse è uno spoiler È il finale Sopravvivono Allora io vi posso No forse Sopravvivono alla tempesta Allora vi dico questo A partire sono in 12 A terra ci sono Gli altri personaggi Che attendono Il ritorno Di questi personaggi E la serie inizia A un anno Dalla scomparsa Dell'Arianna Che è la barca Su cui loro stanno E quindi Loro Praticamente per un anno Quelli che stanno a terra Si vedono in chiesa E pregano Pregano Per quelli Che dovranno tornare E dicono Tutti i giorni Mi ricorda qualcosa Però Magari mi sbaglio E Quando loro Dicono Ma che cosa stiamo facendo Noi dobbiamo vivere Dobbiamo continuare a vivere Non possiamo più sperare Che questo E c'è la figlia Di Di Guanciale Che è rimasta a terra Che No Mia madre è viva E Questa è La trama Della prima volta Ma c'hanno messo il pelato Che arancia Sui denti No ma c'è Ma c'è un pelato Che è il padre Della ragazza morta Che dà il nome Alla barca Arianna Eh beh ci sta Ed è peraltro Un grande doppiatore Che fa cacare come attore Ma è un grande doppiatore Noi Rispettiamo comunque Tu io no Ma poi scusa Dove si perdono loro Nel mare Ma nel mare quale però Eh quello blu Il Mediterraneo Il Tirreno Il Pacifico Il Pacifico Degli italiani Il mare Pacifico Ostia Ostia Non lo so Perché lo sai che È proprio impossibile Che si perdano Nel mare Tirreno Secondo me Non esiste Nessun modo Per perdersi Dopo Cioè Credo che ormai Sia impossibile Perdersi In mare Non lo so Non sono un esperto Però Se è in Italia È difficilissimo Ma io penso Che per più di una settimana Non ti riesci a perdere In mare Cioè nel senso Ma come cazzo O sei un coglione O te sei lanciato Con un gommone E hai nuotato Come un pazzo Con una forza inaudita Senza niente in tasca E sei arrivato E mori dopo tre giorni Ma Nell'oceano Vuol dire che loro Stanno facendo La traversata Atlantica E non la stavano facendo Perché in realtà Loro partono Con questa barca Per una raccolta fondi Tant'è che Sulla barca C'è anche una famosissima attrice Quindi non credo Che gli facessero Fare la traversata Perché durava due mesi Cosa può durare due mesi Come è tratta Ma dicono Nell'Atlantico Mia madre se l'è visto Cazzo è il grande fratello Due mesi Ma chi è che va in barca Per due mesi Nell'Atlantico Loro a quanto ho capito No allora A quanto ho capito Lo fanno questa roba Per beneficenza Non so L'ho arrivato fino alla fine Devo ammettere Ho visto mezz'ora Però Grazie rotolleggiatre Sì ma infatti Tutte le navi Devano avere il GPS Bisogna vedere Quello che succede Perché ovviamente Gli sceneggiatori Non hanno trovato un modo Per farlo Tipo uno che se lo infila nel culo Secondo me È l'unica cosa Che può succedere Visto che tentano Di aggiustare comunque Una roba elettrica Quello è il GPS Ma chissà quali misteri Ci porterà I sopravvissuti E invitiamo tutti A guardarla Almeno tre misteri Ci porta Tre sono tantissimi Secondo me almeno tre È una roba Di cui siamo Esatto tre Siamo molto molto felici Comunque Guardatela E fateci sapere Che cosa ne pensate Qui sotto nei commenti No In parte che non siamo Commentate qui sotto Tempestate di like Visionary